buongiorno a tutti allora gran premio del Brasile c'è tanta bella robettina di cui parlare l'ho appena finito di vedere quindi devo dire che è stato un bel gran premio con tanti colpi con qualche colpo di scena ma non dico nulla e diciamo che forse questa sarà una delle ultime volte perché poi dopo moto gp e gran premio vanno in vacanza quindi magari smetterò di metterlo magari la userò per i miei racconti sullo sci mentre invece continuerò a metterle altre tre giacchettine facendole girare tanto a voi non penso cambi più di tanto che giacchettina della tuta o su ma a bando alle ciance che ho parlato già troppo e qua c'è tanta roba da raccontare partiamo subito con la bella partenza delle due mercedes al gran premio del Brasile combattere i Bottas che sfrutta al meglio il marcaggio stoppaggio di Hamilton che tiene dietro Vettel e gli permette di prendersi la seconda posizione mentre invece Raikkonen resiste al principio di attacco di Verstappen e resta al quarto posto quindi dopo il primo giro abbiamo Hamilton che era in pole position primo Bottas che sorpassa Vettel e si prende la seconda posizione quindi Vettel, Raikkonen e Verstappen Leclerc che sfrutta la pessima partenza di Ericsson e si porta in sesta posizione quindi Grosjean Gasly lo stesso Ericsson e Ricciardo che è già decimo partiva in dicesimo ha già recuperato un posto gara subito intanto molto bella con le due Renault di Ulkeberg e Sainz in lotta per la dodicesima posizione che per quasi mezzo giro continuano a stare una di fianco all'altra affinché il tedesco non riesce ad averla meglio sullo spagnolo e a prendersi la dodicesima posizione non era una posizione importante però almeno si è visto un po' di rotta bella lotta anche tra Verstappen e Raikkonen con l'olandesino volante che nonostante l'esperienza di Raikkonen lo passa e gli dice ciao io vado e lo spassa devo dire che il figliolo una volta tanto è molto più bravo del Papi vedremo se è il figlio di Schumacher che sta facendo molto bene se e sottolineo se dovesse arrivare in formula 1 sarà degno dico tanto padre intanto Verstappen è sempre più scatenato passa anche Vetter si prende la terza posizione e si appressa ad attaccare anche il maggiordomo Bottas per poi che ne so provare ad andare a prendere anche il nuovo campione del mondo Hamilton intanto momento no per Vetter che dopo essere passato passato da Verstappen sbaglia in curva va leggermente largo Raikkonen è lì e non può far altro che sorpassarlo gli scusa ma se mi lasci strada io vado e mi prendo la quarta posizione molto molto male alla fine del nono giro se preferite all'inizio del decimo giro Verstappen passa anche all'esterno Vetteri Bottas e si prende il secondo posto mettendosi così all'inseguimento di Lewis Hamilton veramente è scatenatissimo Verstappen perché praticamente è arrivato quasi al rettilineo finale dell'ingresso del decimo giro si è accostato poi in curva visto che non riusciva a prenderlo preso dall'altra e gli ha detto ciao vado e ha superato anche il maggiordomo quindi la classifica dopo 14 giri vede Hamilton sempre primo Verstappen sempre secondo che tiene la posizione dal decimo non è più successo nulla Bottas terzo Raikkonen quarto Vetter quinto Ricciardo che ha superato un po' tutti e si è messo nella posizione che gli compete minima il sesto posto visto che sono le tre principali scuderie quindi un ottimo Leclerc che è il migliore dei normali diciamo ottavo Grosjean nonno Magnussen e nel decimo Gasly al diciannebisimo giro iniziano i pistopi il primo ad andare importante a fermarsi al pistopo Bottas e mette gomma bianca e rientra intanto in nona posizione ma tanto poi dovrà recuperare sicuramente quando saranno gli altri piloti ad andare a tornare al box al ventesimo giro giustamente se si ferma una Mercedes il giro dopo si ferma anche l'altra quindi anche Hamilton mette gomma bianca anche lui per provare ad andare fino in fondo forse un po' prestino mancano 51 giri però staremo a vedere al ventiquattresimo giro Hamilton supera Leclerc perché gli era finito dietro e si mette alla caccia dei primi quattro anche se quando andranno a fare il pistop lui dovrebbe recuperare il suo primo posto invece continuano i problemini per Vettel dicono di una spia un qualcosa all'inizio che gli ha dato qualche problema al ventottesimo giro si ferma anche la prima Ferrari e Vettel che rientra in pista in nona posizione dietro a Kevin Magnussen anche lui con gomma bianca vedremo poi se subito dopo ci va anche Raikkonen non ci va più avanti invece Raikkonen aspetta ancora tre quattro giri e ci va al trentaduesimo giro il Boas e rientra in settima posizione dietro al suo compagno di squadra Vettel che intanto era già salito al sesto posto devono ancora però fermarsi le due Red Bull per quanto riguarda le prime posizioni in attesa che intanto le Red Bull decidano di andare ai box perché per ora siamo al trentaquattresimo giro e non ci sono ancora andate la classifica vedendo Staffen e Richard prima i secondi perché naturalmente non essendo andate ai box hanno qualche 20 21 secondi 22 secondi quello che si perde per andare al boss già di vantaggio sugli altri e quindi la differenza è quella però comunque Vestafen ha una ventina di secondi su Hamilton quindi tra lui e Hamilton c'erano due secondi che ballavano non ce n'erano tanti al quarto posto c'è Leclerc che non è ancora andato ai box al quinto Bostas al sesto Vettel al settimo Raikkonen all'ottavo Magnussen al nono Perez al decimo Grosjean finalmente al trentaseiesimo giro Pistop anche per Vestafen che mette gomma gialla contro le gomme bianche dei suoi avversari e rientra al terzo posto dietro al suo compagno Ricciardo che è primo ed Hamilton che è secondo da notare che Vettel ha lasciato la sua posizione al suo compagno di squadra Raikkonen per provare a sua volta a passare Bottas che da un po' li tiene dietro ecco era quello che è successo mentre gli altri andavano a fare il Pistop Vettel veramente oggi non so se è lui o è la macchina ma non sta quagliando come si suol dire a inizio del quarantesimo giro Vestafen passa il neocampione del mondo Hamilton ma Hamilton non ci sta e prova prova può da una parte un po' dall'altra sorpassarlo vede che non ce la fa e quindi si accoda e lascia perdere al quarantesimo giro si ferma finalmente anche Ricciardo e rientra al sesto posto dietro a Sebastian Vettel anche lui con gomma gialla per andare fino in fondo mentre gli altri ha messo gomma bianca quelli che si sono fermati prima ed eccoci alla clou veramente una cosa schifosa schifosa perché al quarantaquattresimo giro Vestafen superò con doppiato Ocon cosa fa si mette in seguire Vestafen cerca di infilarlo all'interno Vestafen non se ne rende neanche conto che c'è lui fa la curva si toccano tutti e due fuori e corsa buttata per Vestafen che ahimè essendo dietro di pochissimi secondi e da anzi era abbastanza vicino ad Hamilton si trova poi a sei secondi dalla dalla Mercedes e quindi gara buttata anche se può rientrare riesce a rientrare in pista e a darsi da fare praticamente la fiancata bassa della della sua Red Bull c'è un pezzo di di ferro diciamo della fiancata che è lì attaccato per per tanto così e balla fortunatamente non 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 è che lo danneggia però un po' lo danneggia sicuramente non può permettersi più quei quei giri al topissimo riesce a girare bene ma capite che avere un pezzo di fiancata che ti che balla un attimino nel nella sua fiancata di destra non è il massimo intanto finalmente Raikkonen riesce a superare Bottas e si trova a solo un secondo e tre da Vestafen che proprio perché per aver perso tempo a uscire di pista e rientrare fortunatamente c'era non c'era ghiaia non c'era niente c'era proprio cemento tranquillo eccetera c'è la strada lì sull'esterno della pista non è finito sull'erba non è finito nella ghiaia è rientrato anche abbastanza facilmente gli ha fatto questo segno qua al simpatico compai lasciamo perdere quello che è successo dopo sorvogliamo dopo però comunque una manovra veramente schifosa perché se hai doppiato cosa cosa vuoi fare cosa mi rappresenta al 46esimo giro bellissimo sorpasso di Ricciardo che anche lui sta facendo una gara che definirei mica da ridere che sorpassa Vettel e si mette anche lui all'inseguimento degli altri purtroppo Vettel ncs non ci siamo quindi la cinquantanunesimo giro la classifica vede Hamilton al primo posto Vestafen che nonostante tutto è sempre lì a tre secondi e mezzo quattro secondi da Hamilton quindi cerca comunque di recuperargli qualcosa al terzo Raikkonen che dietro a Vestafen di un secondo e mezzo barra due quindi al quarto Bottas al quinto Ricciardo al sesto Vettel al settimo un ottimo Leclerc all'ottavo Grossgian al nono Magnussen al decimo Perez cinquantaquattresimo giro nuovo pistopper Vettel che mette gomma rossa per un ultimo pezzo di gara molto aggressivo e per provare ad aumentare la velocità con gomme morbide e rientra in settima posizione dietro a Leclerc che è passato in sesta al cinquantottesimo giro Vettel senza nessun problema supera Leclerc che però non è che gli lascia proprio la pista libera perché non sono ancora compagni di squadra si prende la sesta posizione e sta tirando finalmente a una velocità decente sull'1 e 11 cerca di migliorarsi di di far qualcosa perché veramente è stato un gran premio anonimo di Vettel dall'inizio che si è fatto sorpassare non per colpa sua è stato furbo Hamilton a fare gioco di squadra fino al sessantesimo giro una tristezza al sessantesimo giro rientra Bottas che è stato appena sorpassato da un super Ricciardo che di cattiveria si prende la quarta posizione mentre Bottas rientra quinto con soli due secondi su Vettel quindi attenzione perché Vettel potrebbe almeno arrivare quinto per quanto riguarda Ocon e la porcata che ha fatto la penalità di 10 secondi con stop and go al box io avrei fatto bandiera nera però ha deciso così diciamo che vista anche la posizione in classifica una decisione bonista perché comunque Ocon era fuori dalla zona punti francamente arrivare dodicesimo diciottesimo ventesimo cambia poco anzi diciottesimo perché due si sono ritirati non sono stato a raccontarvi chi perché uno era il il povero Ericsson che dopo aver fatto una un sesto posto in griglia mica da ridere ha fatto veramente una gara pietosa quindi sorvogliamo classifica finale perché poi non succede nulla Verstappen ci prova alla fine arriva quasi a un secondo da Hamilton ma non ce la fa senza quella vigliaccata probabilmente ce l'avrebbe fatta avremmo visto una bella lotta tra Verstappen e Hamilton negli ultimi 6 7 8 giri sicuramente perché la porcata l'ha fatta al 44esimo giro mancavano ancora 27 giri quindi con Verstappen a un secondo e mezzo due secondi da Hamilton in quel momento lì purtroppo ha fatto ha fatto sta cosa qua che francamente non si è capita e vabbè comunque primo Hamilton secondo Verstappen terzo Ray Conen che resiste a Ricciardo quarto Ricciardo quinto botta sesto una anonimo Vettel settimo un Leclerc ottavo un grosjean che va a punti insieme a Magnussen e Perez e la classifica piloti che aveva già comunque il suo campione del mondo in Hamilton vede Hamilton a 383 punti che può puntare addirittura a farne 400 in un anno ricordando a memoria non mi sembra che nessun pilota sia arrivato a 400 però magari mi sbaglio è perché sto facendo una mente locale mi sembra che erano tutti intorno ai 315 320 350 negli anni passati e sto facendo veramente locale quando ho fatto la presentazione di tutti i piloti con i punteggi che avevano fatto al secondo posto Vettel con 302 quindi ha aumentato ulteriormente il distacco dal tonde uno è arrivato primo l'altro sesto quindi normale Raikkonen tiene il terzo posto con 251 punti Bottas è a 237 insidiato da un Verstappen scatenato in queste ultime gare che ha 234 e se dovessi buttare 10 euro su chi arriva quarto tra Verstappen e Bottas li punterai su Verstappen quarto nella classifica finale del mondiale mentre invece non penso che Verstappen riesca a recuperare 17 punti in una gara a Raikkonen perché comunque Raikkonen i punti sufficienti per stargli davanti nel prossimo Gran Premio li farà sicuramente non gliene bastano sette quindi nei primi sei arriva quasi sicuro a 158 c'è Ricciardo quindi ormai è consolidata la sesta posizione di Ricciardo mentre invece per quanto riguarda le posizioni di rincalzo al settimo posto c'è Hulkerberg con 69 al settimo Perez con 58 all'ottavo Magnussen con 55 e al decimo Alonso che nonostante una McLaren pietosa in questa gara addirittura è arrivato ultimo ha fatto tre tre pit stop si è fatto surpassare pure da Van Dorn il suo compagno di squadra che non era mai successo c'è un finale di mondiale per Alonso veramente pessimo ma magari all'ultima gara ci ci sorprende veniamo invece alla classifica costruttori che è curiosa perché allora la Mercedes a 620 campionato costruttori portata a casa un plane piloti costruttori quinto anno di fila cioè Nastrage al secondo posto la Ferrari con 553 al terzo la Red Bull con 392 quindi abbiamo quarta la Renault con 114 che teoricamente dovrebbe essere tranquilla quinta la Assa 90 che è tranquillissima perché ha 38 punti di vantaggio sulla McLaren che ne ha 62 settima la Forza India a 48 che vedremo se l'anno prossimo riuscirà a iscriversi visto che ha avuto problemi a inizio anno ha dovuto cambiare il nome proprietario eccetera vedremo se all'ottavo una Sauber che ha 42 punti quindi può insidiare la Forza India per il settimo posto quindi una Toro rossa 33 che a sua volta potrebbe insidiare la Sauber per l'ottavo posto e ultima penosa con soli sette punti la Williams e vedere una Williams settima una McLaren sesta francamente è un po' un pianto tenendo conto i fasti del passato in cui Williams e McLaren insieme alla Ferrari si giocavano i primi posti mentre invece la Mercedes così magari dava i motori ma non mi ricordo se c'era negli anni 70 80 la Mercedes o chi per esse comunque ahimè la Williams è decima ultimissima matematica vedremo l'anno prossimo se Williams e McLaren riusciranno a darci dentro buone notizie per la Red Bull perché sentivo che i motori nelle altre discipline della Honda nelle varie categorie motoristiche stanno facendo ottimi risultati quindi ci si aspetta una Red Bull l'anno prossimo con motore Honda un pochettino più potente bisognerà vedere sono preoccupati più per l'affidabilità del motore e non tanto per la potenza la potenza dovrebbe essere superiore al motore Renault l'affidabilità è un punto di domanda vedremo poi l'anno prossimo che poi tra quattro mesi alla fine della fiera dovrebbero iniziare aprile marzo aprile più o meno vedremo comunque niente concludiamo qui questo video vi ho raccontato tutto tra due settimane ci sarà l'ultimissima gara e tra una settimana anzi anche meno c'è la moto GP anche se oramai anche lì è tutto abbastanza deciso forse manca la questione costruttori tra Ducati Yamaha e Honda vedremo però per il quanto riguarda anche lì il mondiale è già chiuso l'ha vinto il bimbo minchia Marquez e tanto di cappello per il bimbo minchia Marquez vi saluto vi ringrazio ci vediamo ai prossimi video ciao